È difficile trovare delle parole giuste, è un qualcosa di profondamente ingiusto che è accaduto in questi giorni nella nostra città. L'amministrazione comunale ha istituito il lutto cittadino per la giornata di oggi e domani e sicuramente faremo la stessa cosa anche per la giornata del funerale. Abbiamo scelto questo luogo perché è un luogo simbolo, come vedete abbiamo scelto questa panchina rossa, la panchina rossa, che rappresenta, purtroppo da oggi abbiamo una testimonia, cosa che non volevamo in alcun modo avere sul territorio, rappresenta il no alla violenza sulle donne, no a nessun tipo di violenza. Abbiamo scelto questo l'ultimo mese di gravidanza, quindi il pensiero va anche a Tiago, così voleva chiamare il suo bambino. Purtroppo uno dei momenti più belli della vita di una donna si è trasformato in una tragedia immane. Quindi ci stringiamo davvero con un grande abbraccio, lasciando questo piccolo pensiero da parte dell'amministrazione comunale tutta, a Giulia e al suo bimbo. Come stanno facendo tanta grande banderina. Grazie. Grazie.